Maria ha potuto accogliere Gesù nel suo grembo perché già viveva lo stile di Gesù nella sua vita. Fin da ragazza era attenta ai più bisognosi, era attenta agli ultimi e mai stanca di farli bene. Così quando Gesù si è incarnato, è cresciuto ed è maturato come uomo, lei non faceva altro che vivere ed imparare sempre di più lo stile suo. L'ha imparato sempre di più ancora con gli apostoli e dopo la Pasqua gli apostoli non hanno potuto fare altro che guardare a lei perché era lei l'esatta immagine dello stile che Gesù aveva loro insegnato, aveva loro testimoniato. E come l'ha insegnato agli apostoli così può insegnare anche a noi, a tutti i cristiani della chiesa del mondo fino ad oggi, lo stile di Gesù che ci insegna ad annunciare lui, ad annunciare la bellezza della sua vita a tutti gli altri.